Senatrice Erika Stefani, il quarto svuota carceri, quello che il Governo ha deciso di fare in Senato senza dare ascolto all'opposizione? È l'ennesimo provvedimento di questo Governo, di questa maggioranza, che è finalizzato puramente a svuotare le carceri nostre. Questo provvedimento in particolare attenua l'Istituto delle misure cautelari e della custodia cautelare in carcere. È l'ennesimo provvedimento che è stato adottato senza un'ottica né sistematica né organica del problema. Noi lo diciamo da tempo, per risolvere il problema delle carceri bisogna costruire nuove carceri e far scontare la pena degli stranieri nel loro paese di origine. Non di certo queste fumose normative che si stanno facendo, che sono atte solo a destabilizzare il sistema e a creare proprio una situazione di incertezza nella gente. E si troveranno così tutte le persone offese a vedere i criminali circolare liberamente nelle case, nelle strade e quindi senza vedere invece che espiano le loro pena nel carcere, dove è giusto che siano.